Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati, spero che state comodi, rifocillati, perché oggi abbiamo da lavorare. Comunicazione di servizio, oggi ci sarà l'esercitazione, se non c'è l'esercitatore la faccio io, per cui ci vediamo anche alle due e mezza all'aula 145.3, questa qui dietro, stesso piano. Bene, altre comunicazioni, domani confermo che non c'è il professor Albertini, quindi le ore di Albertini le faccio io, domani alle 11.30. Bene, detto questo partiamo, stiamo parlando questa settimana della tecnologia dei puntatori che è la tecnologia che consente al C++ di avere la potenza, la stessa potenza di computazione sostanzialmente che ha l'Assembly. È una potenza che, come diceva il nonno di Peter Parker, area sullo Moragno, che a grande potere deriva una grande responsabilità, perché non ho tempo oggi, però spero di farvelo vedere, che con i puntatori ci si può far male, o si può far male a qualcun altro. Infatti linguaggi evoluti come il C di alto livello, negli anni successivi hanno rimosso questa tecnologia, cioè hanno creato le condizioni, Java per esempio uno di questi linguaggi, di non far uso dei puntatori. Ma poi sono cose che vedrete in seguito. Come richiamo, vi ricordo che abbiamo detto che il puntatore è una variabile destinata a contenere l'indirizzo di un'altra variabile. E abbiamo visto come si definisce, come si ha un puntatore a un tipo, come si inizializza, come si valorizza, cioè come si fa in maniera tale da mandare quella variabile, il puntatore a puntare una variabile. E poi abbiamo visto come si può, dereferenziando il puntatore, risalire da lui alla variabile puntata. Poi abbiamo visto ieri che non si capiva a cosa serviva tutto ciò, perché tanto avevamo già un nome per una certa variabile, perché puntarla con un puntatore. E vi ho detto che il motivo per cui sono stati inventati i puntatori era per passare, è per passare le variabili alle funzioni. Abbiamo discusso questo avanti ieri, vi ricordo brevemente, abbiamo visto una funzione scambia che non riusciva a scambiare di posta il valore delle variabili, ma ridefinendo i suoi argomenti non più come interi, ma come puntatori anteri e passandogli alla funzione non le variabili, i nomi delle variabili, ma gli indirizzi delle variabili, riuscivamo a passare per valore l'indirizzo al puntatore, dereferenziando il puntatore riuscivamo a risalire alle variabili che gli avevamo passato e cambiare effettivamente, andare a toccare le variabili che gli passavamo. Questa è la tecnologia dei puntatori ed è l'uso principale, ho detto, avanti ieri ho detto l'uso, questo è l'uso principale, oggi vedremo un altro uso molto importante dei puntatori, per questo vi chiedo di stare comodi, perché quest'altro uso che vedremo è anche importante. non ci saranno poi altri usi. Questo che abbiamo visto avanti ieri è quello che vedremo oggi. Ma sempre avanti ieri abbiamo detto che negli anni successivi il linguaggio C++ ha recuperato una tecnologia che c'era già negli anni precedenti, quella dei riferimenti. Sempre questo qui un richiamo, abbiamo visto che si può passare una variabile a una funzione anche mediante quest'altro sistema, cioè quello di definire gli argomenti della funzione come riferimenti, sto richiamando il concetto per cui vado molto veloce, e questo ci consente di passare la funzione non l'indirizzo di una variabile ma il nome stesso della variabile. A questo punto il parametro di tipo riferimento e le variabili sono sinonimi e per cui dentro la funzione si può andare a utilizzare il nome del parametro senza dereferenziarlo. Questa scrittura del codice è molto più pulita e di più facile lettura, per cui effettivamente è consigliata. E poi per concludere il richiamo abbiamo visto in chiusura avanti ieri le differenze fra un argomento per valore e il passaggio per riferimento. Quando che si chiama una funzione che ha un certo parametro di un certo tipo e gli si passa una variabile di quel tipo, quello che accade è che si copia il valore della variabile che è il parametro cosiddetto attuale al parametro formale. Viene ricopiato il valore in due diverse zone della memoria. Invece se definiamo il parametro della funzione di tipo riferimento e gli passiamo il nome della variabile all'atto della chiamata, quello che accade è non già che viene copiato un valore dalla variabile x a un altro, ma quello che abbiamo detto è che c'è un puntatore nascosto che si chiama a e che viene automaticamente dereferenziato quando lo si nomina questo parametro all'interno della funzione, in maniera tale da andare a prendere dereferenziando in maniera automatica direttamente la variabile che gli è stata passata. Scusate se non avete capito niente perché è stato talmente concentrato questo richiamo, ma era un richiamo. Comunque non c'è la registrazione di ieri perché c'è stato un incidente tecnico avanti ieri, quando poi ho fatto ripartire il computer mi sono scordato di far partire il registratore. E quindi in qualche maniera faremo o rifarò qualcosa farò in futuro. Andiamo avanti. Va bene, poi abbiamo visto anche ieri che si possono restituire da una funzione, avanti ieri, degli argomenti che sono dei riferimenti e dei puntatori. Piccolo esercizio per vedere se i concetti sono stati asseminati. Qui abbiamo due variabili, scusate, due funzioni che fanno la stessa cosa e cioè restituiscono un puntatore oppure un riferimento, si distinguono per questo. La prima restituisce un puntatore, la seconda restituisce un riferimento, a che cosa? A delle due variabili che gli passeremo all'atto della chiamata, mi restituisce il puntatore a quella delle due che gli passo, che contiene il valore maggiore. Una, MaxP, è implementata con la tecnologia dei puntatori, l'altra, MaxR, è implementata con la tecnologia dei riferimenti. Le cose che fanno, cioè cosa fanno queste due funzioni? Esattamente la stessa cosa, quello che ho detto prima. In particolare andiamo a vedere quella dei riferimenti, quella dei puntatori, abbiamo due parametri di due puntatore, si dereferenzia il primo parametro per andare a vedere che valore ha la variabile che gli passerò, si dereferenzia il secondo per vedere che valore ha la seconda che gli passerò. Quindi a quel punto, aprendo le variabili che gli abbiamo passato, andiamo a vedere che valori ci hanno dentro, se la prima che gli ho passato ha un valore maggiore o uguale a quello della seconda, viene restituito il puntatore alla prima, altrimenti viene restituito il puntatore alla seconda. Tutto coerentemente con l'intestazione della definizione. Vedete che la prima restituisce un puntatore intero, la seconda restituisce un riferimento intero. All'atto della chiamata, io ho le due variabili X ed Y, che suppongono non siano state valorizzate, adesso qui il codice non c'è, ma supponiamo di aver letto i valori dall'input, a questo punto io posso lanciare maxp, passandogli correttamente gli indirizzi delle variabili X ed Y, correttamente perché questa è implementata con la tecnologia dei puntatori, si aspetta che io all'atto della chiamata gli passo l'indirizzo. Lei, maxp, residirà un puntatore e quindi se io poi voglio andare a prendere la variabile che gli ho passato per farci qualche cosa, per esempio per metterla a zero, debbo dereferenziare il puntatore che la chiamata maxp mi restituisce. Maxp restituisce un puntatore intero. Se poi io questa variabile, non so quale delle due, o X ed Y, ha un valore maggiore dell'altro, quella delle due che è la più grande, la voglio mettere a zero, debbo dereferenziare il puntatore che maxp mi restituisce. Quindi la prima riga di codice qui del main è corretta. La seconda non è corretta perché io, è corretta la chiamata, maxp mi restituisce un puntatore alla maggiore delle due, io poi questo puntatore non lo posso mettere a zero. Perché zero è un valore intero e qui in questa condizione il compilatore non me l'accetta questa operazione. Provatela a fare e vedrete questo qui. Quello che si può fare pure è, ovviamente, chiamare la stessa funzione che mi restituirà un puntatore, dereferenziarla e poi il valore che lei mi restituisce assegnarlo alla Y. Stessa cosa la posso fare con quest'altra chiamata qui. Ma vedete che l'ultima chiamata che sto indicando adesso è più semplice da implementarsi e da capirsi. Questa cosa la vediamo un'altra volta perché è noiosa. Sempre in passant esistono dei puntatori che sono puntatori a un tipo che non esiste. Si chiamano puntatori a void, vengono usati molto e servono per definire dei puntatori che poi possono essere, come dica maleonti, adattarsi a puntare un char, a puntare un int, a puntare un float, a seconda dell'uso che se ne fa. Guardiamo questo codice che illustra a cosa serve il puntatore a void. Ma lo vediamo direttamente. si vede? Allora qui abbiamo una funzione incrementa che è una procedura perché non restituisce niente, che prende in input due parametri. Il secondo è un intero. Il primo è un puntatore a void che si chiama data. Puntatore a void vuol dire una specie di jolly. Può essere un puntatore a qualunque cosa, a seconda di quando lo chiamerò, che cosa gli passerò. E questa qui che cosa fa? Fa un controllo, va a vedere qual è la dimensione di questo intero, va a vedere se per esempio come dimensione c'ha la dimensione del tipo char. Ora, in tutte le architetture la dimensione del tipo char è 1, per cui scrivere size of char è un po'... size of mi restituisce la dimensione del tipo. È un operatore di cui abbiamo parlato un paio di mesi fa forse. Se io gli ho passato qui 1, allora parte questo if. E che cosa fa? E va a prendere il puntatore che gli ho passato, lo converte in puntatore a carattere, da puntatore a void che era, lo converte mediante questa conversione di tipo a puntatore a carattere e poi lo associa a pchar che è un puntatore a carattere. Poi, qui c'è un punto e virgola, dereferenzia questo puntatore a carattere e quindi va a prendere il carattere che lui punta e lo incrementa di 1, il carattere da lui puntato. se quello che gli ho passato qui non è 1 ma è 4, size of of int, int quasi in tutta l'architettura è 4, che cosa fa? Fa la stessa cosa però col tipo int, cioè prende data che sarebbe un puntatore a void, lo converte a puntatore a intero, lo assegna a pint che è un puntatore a intero, dereferenzia pint per andare a prendere la variabile che gli ho passato e la incrementa di 1. Il main definisce una variabile A di tipo carattere e li mette dentro l'acide la x, definisce una variabile B di tipo int e la inizializza a 1.602, poi lancia la funzione incrementa, passandogli una volta l'indirizzo di A e gli passa come secondo argomento la size, cioè la dimensione di A. La chiama una seconda volta passandogli l'indirizzo di B e dandogli come secondo argomento la dimensione di B che è 4, perché B è un intero. e poi stampa A uguale qualcosa, no scusate, stampa A virgola e stampa B. Adesso mi dovete dire, prima che io lo compiro, cosa stampa questo programma. Se mi dite cosa stampa vuol dire che avete capito, cosa è il puntatore a voi. E anche cosa sono i puntatori. Allora mi metto l'occhiare e un punto in più a chi mi risponde cosa scrive in auto tutto questo programma. voglio una mano alzata per prendere la parola. Si è alzata una mano. E poi? Bene, nome e cognome un punto in più. Bene, questo era una verifica per vedere se avevate capito cosa sono i puntatori e anche a cosa serve il puntatore a void. Dobbiamo correre. L'ultima cosa che voglio dire sui puntatori, e poi passeremo al nuovo argomento di oggi, che saranno, che sono i vettori. L'ultima cosa che vi voglio dire è che questi puntatori che io vi ho introdotto come metodi per puntare una variabile, per contenere l'indirizzo di una variabile, che è un dato, beh, esattamente la stessa tecnologia si può utilizzare per contenere l'indirizzo di una istruzione sulla RAM. In particolare, per esempio, l'indirizzo della prima istruzione di una procedura, di una funzione. Perché se così faccio, e si fa, e si fa, io sto dicendo che quel puntatore mi sta puntando non un dato, ma un sottoprogramma, una funzione. Cioè sto dicendo che esistono anche i puntatori a funzione e che sono usatissimi nella programmazione evoluta. Ecco, questo è un corso, ragazzi, del primo anno, ma le nozioni che sto dando, alcune di queste qui, sono nozioni che usano i programmatori professionali proprio. Il puntatore a funzione è usatissimo. di che si tratta? Si tratta di questo. Come ho detto poco fa, io posso definire un puntatore non a una variabile, ma a una funzione, nel senso che lui mi punterà la prima istruzione di una funzione. Dopodiché, dereferenziandolo, io lo posso utilizzare per partire una funzione. come si definisce innanzitutto un puntatore a funzione? Si definisce così, e cioè si definisce come se fosse il prototipo di una funzione, perché vedete che avete qui il nome di una funzione, il tipo che restituirebbe questa funzione e anche gli argomenti che prenderebbe questa funzione in input. Somiglia a un prototipo di funzione, solo che il nome della funzione, che qui ho scritto puntatore funzione, viene messo innanzitutto con l'asterisco prima, e poi asterisco il nome della funzione, tutto fra parentesi tonde. quello lì, quello che vedete qui, sarebbe un puntatore a funzione. Faccio un esempio qui sotto. Supponiamo di avere una certa funzione f, che restituisce un intero e che prende l'input un intero e che ci fa qualche cosa, una funzione generica. Ok? Mi seguite? Dite di sì. Dai. Questa ci sta già. Adesso io mi definisco un puntatore a funzione di quel tipio, cioè una funzione che prende un int e restituisce un int. E lo faccio così. chiamo questo puntatore, lo chiamo pf, ci metto l'asterisco prima, metto tutto fra parentesi tonde, e poi dico che prenderà, che lui sarà il puntatore a una funzione che prenderà in input un intero e restituirà in output un intero. Quindi questo pf, a questo punto, è pronto, è pronto per eventualmente puntare una funzione come appena detto, cioè di quel tipo, cioè che prende un intero e restituisce un intero. E come si fa a farlo? Basta che io uso l'ognipresento operatore di assegnamento e scrivo pf uguale f. Il risultato di questa istruzione di assegnamento è quello di prendere l'indirizzo della prima istruzione della funzione f, che sta dentro f, il nome di una funzione, altro non è che l'indirizzo alla sua prima istruzione, e lo si dà come valore a pf. Cosa succede se adesso nel codice successivo qualcuno dà referenza pf? Parte la funzione. E facciamolo l'esempio. L'esempio che stiamo per vedere è tosto. È un classico esercizio d'esame. Io ve lo faccio vedere. Lo commento velocemente, ve lo metto sulle slide e poi voi ve lo digerite con calma a casa, ci ripensate. Allora, stiamo parlando di puntatori a funzione. Stiamo vedendo a cosa possono servire i puntatori a funzione. Abbiamo qui una funzione che si chiama addizione, a funzione, che prende in input due interi, A e B, e restituisce in output un intero. E che intero sarà? Altro non sarà che la somma dei due valori letti in input. Ne abbiamo un'altra che si chiama sottrazione. Ho preparato, perché anche qui non sto scherzando, un punto in più all'esame a chi alza la mano ne azzecca a cosa fa l'output di questo programma. Preparatevi. Sottrazione. Prende in input due interi, A e B, restituisce un intero. E che intero restituisce? Restituisce la differenza fra A e B. Banale. Poi abbiamo una terza funzione, operazione. Cominciamo a nervosirci, perché che cosa sarà quest'operazione? Che prende due interi, e poi prende, che prende? È complicato, eh? Però adesso è complicato. Fino adesso è stato tutto banalissimo. Il modo di colpo diventa complicato. Prende un terzo parametro. Che tipo è questo terzo parametro? È un puntatore a cosa? A funzione. A funzione che prende in input due interi e restituisce un intero in output. E chiaramente è predisposto, questo puntatore, a puntare a una delle altre due prima. C'è la stessa struttura. Quindi io sto cominciando a capire cosa vuole fare questo programmatore. Non mi è ancora chiaro, però comincia a intuire. Vuole giocare su questo. Dentro la funzione operazione mi definisce una variabile locale g di tipo intero che la userà come variabile d'appoggio. Sto pensando io, eh? Sto leggendo dall'alto verso il basso. Mi viene in mente che la usa come variabile d'appoggio. Non posso sbagliare, ma... Poi che cosa fa? Dereferenzia il puntatore che io gli ho passato. Passandogli come argomento x ed y, che sono gli altri due che ha preso in input. Dereferenziando un puntatore a funzione, che succede? Parte la funzione che quel puntatore punta. Quella partirà, fa trattata, 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 lavora, restituisce un valore in output. Questo valore in output viene associato a g. E la funzione operazione mi restituisce g. Restituisce un intero, g un intero, tutto corretto. Il compilatore va bene. finite le funzioni il main il main mi definisce due interi m e n e e mo comincia a fare delle cose prima mi definisce questa cosa qui che cos'è questo che ho evidenziato? è un puntatore a funzione come lo chiama? meno e perché lo chiama meno? perché lo associa subito alla funzione sottrazione quindi meno sarà un puntatore alla funzione sottrazione non sarà e da questo momento quello è un puntatore alla funzione sottrazione poi va oltre prende m e come valore gli dà il risultato della funzione operazione a cui gli passa 7,5 e il nome della funzione addizione si sta cominciando a intricare il discorso però stiamo andando pianino per cui se vi sta girando lo stomaco tranquilli che poi passa poi si lancia operazione gli passa 20 al primo argomento m che è il risultato del cuore di prima al secondo argomento e meno ecco adesso mi metto gli occhiari un minuto di tempo voglio sapere se qualcuno è in grado di capire cosa stampa con l'ultima istruzione questa allora no veramente se ne sono usate tante per cui devo fare a caso allora io ho visto uno qua che è per primo per cui con gli occhiali però il punto lo dividete in due perché eravate vicini e quindi vi dividete mezzo punto e mezzo punto ok qualcuno dissente da quello che è stato detto lo dico per tutti è stato detto che stampa 8 qualcuno dissente se dissentite non perdete punti per questo se ci avete azzeccato ne guadagnate due qualcuno dissente vediamo 8 mezzo punto a testa a voi due gli altri che hanno alzato la mano saranno più fortunati nei prossimi quizetti che lancerò allora qui c'è un esempio di chiamata diretta un esempio di chiamata indiretta tramite un'altra funzione quindi effettivamente è stato un esempio complesso però avete appena svolto un classico esercizio di teoria allora se siete pronti continuiamo a parlare di puntatori ma li usiamo per introdurre un altro importantissimo argomento della programmazione della programmazione in particolare della programmazione scientifica ma di tutta la programmazione alla fine di questo percorso che stiamo per iniziare arriveremo a parlare del vettore dei vettori cioè degli array allora da dove partiamo 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 da qui allora supponiamo cancello tutto vi ricordate abbiamo tempo fa parlato di un algoritmo per calcolare la media dei voti riportati da degli studenti che si sono seduti a fare una prova d'esame quell'algoritmo abbiamo visto l'altra volta leggeva dall'input i voti via via li sommava alla fine divideva per il numero dei voti che aveva sommato e aveva la media aritmetica adesso vorrei fare un passo avanti e vorrei mettere in memoria i voti che vengono riportati in maniera tale da andare a rivedere stampare con la tecnica che avete fino ad ora cioè con le competenze che avete fino ad ora l'unico modo per far questo è definire delle variabili che siano in grado di ospitare quei voti per esempio se io so che datemi un altro nome corto eh allora supponiamo che io so che questi sono i nomi degli studenti che si sono messi a fare l'esame io posso pensare di allocare spazio in memoria per ospitare i voti che prenderanno supponiamo di un po' intero beh prima avvisiamo l'utente che deve fare qualche cosa dammi i voti di queste persone si vede così li leggo e li vado a mettere sulle variabili seguite adesso dovrei sommarli e quindi come faccio a sommarli devo farmi una una somma voti e gli darò come valore la somma di questi voti dopo di che supponiamo che io so l'ho contato che sono 6 mettiamo diviso 6 funziona questo? c'è qualche problema? allora siccome somma voti è int se lo vado a dividere per 6 che è pure un int mi farà la divisione intera e quindi per poter avere per poter avere il risultato con la parte frazionaria devo convertire in flotte allora io provo è giusto è giusto bene adesso il problema è questo qui se io non so i nomi di questi ragazzi come faccio a fare questo programma questo è banale un po' meno banale è se io non so quanti sono i ragazzi che si mettono a sedere come faccio a fare esattamente la stessa cosa? se una domanda la meno stupida delle tre se i ragazzi sono invece che 6 sono 1223 che faccio all'occhio in memoria 1223 variabili ciascuna con un nome diverso come ho fatto adesso beh se non fossero stati inventati i puntatori questo è quello che avrei dovuto fare e quindi stiamo per vedere il secondo ed ultimo utilizzo dei puntatori che è proprio quello di rimpiazzare le variabili quando sono tante e sono tutte riferite ad oggetti del medesimo tipo come per esempio in questo caso Aldo Ugo Mimmo Lia Eva e Tino sono tutti interi cioè io che cosa posso fare? vediamo un po' cerchiamo di ragionare io posso però definire un puntatore a intero si vede? va meglio? mi definisco un puntatore a intero e poi lo mando a puntare una di quelle come si fa? gli devo dare l'indirizzo di una di loro la prima e poi per curiosità me vado a vedere perché siccome non ci credo molto ai puntatori mi mando un po' di roba in stampa perché voglio vedere e perché scusate se è impiantato magari prima la vado a valorizzare allora leggo sempre i valori li metto nelle variabili poi mi definisco un puntatore alla prima di loro e poi mi mando questi sui stampa per vedere cosa sta puntando veramente e il valore di cosa sta puntando cioè vado a vedere l'indirizzo della variabile Aldo poi vado a vedere il valore di voti voti è un puntatore poi vado a vedere cosa sta puntando a voti intanto vediamo se compila dammi voti Aldo quindi ha preso uno e mi dice che Aldo è all'indirizzo D4 voti c'ha proprio come valore D4 sta puntando Aldo e se dei referenzi o voti vado a prendere cosa c'è all'indirizzo D4 e ci trovo uno che è quello che sta dentro Aldo che sta a D4 tutto come da teoria ma allora io che posso fa posso dopo Aldo chi viene Ugo ed ecco la cosa nuova che non sapete e che vi dico adesso se io prendo un puntatore a intero lo incremento di uno non mi va da D4 a D5 che sarebbe la cosa forse logica che facesse ma per comodità chi ha inventato i puntatori ha stabilito questa regola che se io ho un puntatore intero trattandosi che l'intero è su 4 byte se aumento il puntatore di uno lui in realtà il puntatore mi aumenta di 4 perché? perché vuole andare a puntare all'intero successivo è tutto un trucchetto che alla fine di questo discorso capirete a cosa ha servito cioè ripeto io ho un puntatore a char char quanti byte è? uno puntatore a char se io incremento il valore del puntatore di uno il valore di quel puntatore proprio di uno aumenta perché il tipo da lui puntato ha dimensione uno se invece il puntatore punta un tipo come int che ha dimensione 4 se incremento di uno il puntatore il puntatore mi aumenta di 4 se il puntatore ha long che ha dimensione 8 incremento il puntatore di uno in realtà il puntatore mi incrementa di 8 cioè il puntatore ha un certo tipo si incrementa o si diminuisce a colpi di tot dove tot è la dimensione del tipo puntato cioè se io prendo voti incremento di 1 vediamo che cosa succede si vede che Ugo sta all'indirizzo 8 perché sarebbe 4 più 4 e anche voti più 1 vale 8 voti vale di 4 voti più 1 vale di 8 c'è sempre 2 perché non ho dereferenziato voti più 1 ma ho dereferenziato voti voti era ancora di 4 e ancora puntava il valore 2 ma se adesso io qui voti ci metto voti più 1 e dereferenzio non voti ma voti più 1 risalvo e ricompilo ecco che voti mi punta quello che c'è dentro Aldo che è 3 voti più 1 mi punta quello che c'è dentro Ugo che è 4 vedete Aldo aveva preso 3 Ugo aveva preso 4 che succede adesso allora cosa possiamo pensare di far possiamo pensare di far questo a questo punto abbiamo capito Aldo non ci interessa più non ci interessa Ugo quello che possiamo fare adesso e cominciamo a fare a meno delle variabili questa voti in pratica sarebbe voti più più 0 arrivo qualcuno mi ha chiamato allora che cosa ho fatto e mi sono andato a stampare l'indirizzo voti più 0 spazio e poi ciò che voti più 0 sta puntando il valore puntato salvo ricompilo c'è qualche cosa che non va non l'ha compilato ad4 c'è 1 ad8 c'è 2 ad5 c'è 3 finale 8 che c'è 6 e la media 3,5 a questo punto io cosa posso fare int somma voti al posto di Aldo ci scrivo perché voti più 0 perché voti che sarebbe voti più 0 sta puntando Aldo ovviamente ci vuole ho sbagliato ci vuole l'asterisco perché devo andare a prendere il valore che c'è dentro Aldo e non Aldo mi seguite cioè sto seguendo le indicazioni che mi avete dato voi quando avete detto che si può con i puntatori fare a meno delle variabili di nominare le variabili ancora non sono arrivato compilo e continua a funzionare non è ancora finito perché adesso guardando intosomma voti qui cosa può venire in mente adesso di fare cosa che prima non potevo fare con i nomi delle variabili cioè adesso io posso fare questo me faccio o un while oppure visto che so quanti sono mi viene più più immediato con for mi definisco un contatore dentro for e lo inizializzo a 0 poi lo faccio andare avanti fino a quando arriva a 5 quando a 6 devo uscire perché mi deve fare tutta sta roba qua tutta questa istruzione sta sommatoria me la voglio fare con un for perché adesso la posso fare perché non ho più Aldo Ugo Mimmo Lia ho voti 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 e voti più i cioè io faccio somma voti uguale somma voti più voti cioè asterisco voti più i cioè dei referenzi voti più i punto e virgola chiaramente tutto questo somma voti quassù non serve più ma serve la variabile somma voti che la devo inizializzare essendo una sommatoria a cosa a 0 e manca l'incremento del for ogni volta lo faccio aumentare di 1 partendo da 0 ogni volta aumenta di 1 fino a quando arriva a 5 e lo fa quando arriva a 6 esce cos'è che non hai capito quale questo questo è quello che facevo prima con la sommatoria adesso lo faccio con un for non ho finito allora tutta questa roba abbiamo capito che non ci serve più però ci abbiamo ancora Aldo Ugo Mimmo Lia Eva e Tino mi piacerebbe cioè l'obiettivo è sbarazzarcene come facciamo a sbarazzarcene e dobbiamo mettere questa espressione qui anche qui più 1 poi Mimmo sarà a voti più 2 Lia sarà a voti più 3 e così via lo faccio o mi potete dire che c'è un modo migliore per fare questa operazione famo un altro for e famo un altro for pigliamo sto for lo portiamo qua no a questo punto bisogna che lo portiamo qua perché usiamo la variabile voti che è inizializzata ad Aldo il puntatore voti che prende l'indirizzo di Aldo e quindi prima lo dobbiamo mettere lì e poi che facciamo invece che fare la somma dei voti facciamo cin che va a mettere il valore dentro che cosa dentro la variabile puntata dal puntatore voti più i all'inizio sarà i0 quindi sarà il puntatore voti e voti che sta puntando sempre Aldo quando io uguale 1 voti punterà Ugo quando io uguale 2 punterà Mimmo per cui con questo ciclo io uso CIN per andare a mettere i voti dentro Aldo Ugo Mimmo Lia Eva e Tino e questo ovviamente non serve più siamo quasi arrivando alla fine siamo quasi arrivati ancora c'abbiamo Aldo Ugo Mimmo Lia Eva e Tino e più c'abbiamo Aldo che inizializza voti l'obiettivo era sbarazzarcene e quindi possiamo fare così intanto accostiamo un po' queste due va puntatore intero puntatore intero e quelli sono degli interi ecco l'ultimo passo che hanno inventato i programmatori per liberarsi di tutto questo è stata questa cosa qua prendiamo questo puntatore voti diamo per scontato che lo sia si vede e apriamo una parentesi quadra e la chiudiamo stiamo dicendo che voti è un puntatore intero che però punta una variabile di tipo intero che è la prima di tante di quante sei voti è un puntatore che punta un intero il primo di una serie di sei interi e Aldo Tino Ugo e amici vari li mandiamo a quel paese un intero Che cosa è successo? Al posto delle sei variabili di tipo intero, ho definito un vettore di sei interi. Quindi, il nome del vettore è il puntatore al primo elemento di questi sei. Per cui, se io scrivo voti più zero, sto intendendo il puntatore al primo di quei sei. Se lo dereferenzio, vado a prendere il primo di quei sei. Voti più uno, punta il secondo di quei sei. Se lo dereferenzio, prendo il secondo di quei sei. E così via. Questa notazione che avete visto qui, è la notazione dei vettori. In inglese, array. E a questo punto, è tanto carina questa notazione, che la si usa al posto dei vettori. dei puntatori. E cioè, andiamo nei due forre, che abbiamo appena scritto, e li modifichiamo. Invece che scrivere questa roba qua, che è un po' antipatica, al posto di questa, scriviamo... Un attimo che la cancello. Scriviamo, voti, aperte a parentesi graffa, quadra, i, chiusa a parentesi quadra. Questo qui, voti, con i dentro a parentesi quadre, rimpiazza tutto questo. È la stessa cosa. Cioè, a livello macchina, è la stessa cosa. Solo che, indubbiamente, questa è più carina. E lo stesso trucchetto, lo posso fare anche nell'altro forre, dove, visto che ci sono, ci sto, uso anche l'operatore composto, che non c'entra niente con i vettori, ma... Ci siamo, facciamo tutto. Risalvo, ricompilo, e se non ho commesso errori... Quello che state vedendo adesso è la tecnologia dei vettori, che in realtà è tutta una farsa, perché il percorso che abbiamo seguito dovrebbe rendervi evidente il fatto che i vettori non esistono. In realtà non è altro che un ammascheramento dei puntatori. Il nome di un vettore altro non è che il puntatore al primo elemento del vettore. Il vettore è una sequenza di variabili tutte dello stesso tipo con un nome, la sequenza. Questo nome altro non è che il puntatore è il primo di loro. E invece che dereferenziare il valore del puntatore aumentato dei prendo il nome del puntatore, apro parentesi quadra, ci scrivo i, chiusa la parentesi quadra, è la stessa cosa. Non è simile, è la stessa cosa, a livello macchina è la stessa cosa. Quindi, a questo punto non ho più i nomi delle variabili, sono scomparse, ecco a cosa servono i vettori, cioè fa scomparire nomi delle variabili, ma in realtà i vettori stessi non esistono. Se vi hanno detto che esistono i vettori, vi hanno detto una balla, è tutto un ammascheramento, quello che esiste è il puntatore, il puntatore esiste. È chiaro? Beh, vi lascio a questo punto famola tutta, perché mosto sei da dove è scappato fuori? Non lo so. Allora si fa così, non so quanti sono i ragazzi che si mettono a sedere, non lo so. Liberiamoci pure di questo sei. Che posso fare? quanti saranno i studenti al MAS? Quanti siete? Voi siete 230. Questi qua, dammi i voti degli studenti. No, dimmi quanti sono gli studenti. poi lo vado a leggere e lo metto dentro, ora mi serve un'altra variabile, numero studenti. Quindi, il numero che sarà, sarà un unsigned. A che mi serve sto MAX? MAX mi serve per stabilire quant'è la dimensione del vettore che devo predisporre per ospitare tutti gli studenti qualora venissero tutti. MAX? Aspetta, no, il vettore quando lo allochi devi dire quanto è grande perché il compilatore deve riservare spazio per tutte quelle variabili che eventualmente saranno valorizzate, ma lo deve sapere prima. definisco un vettore di MAX studenti. Finisco e poi commento. Leggo quanti realmente si sono messi a sedere in quell'appello. Poi, mi fermo al numero di quelli che si sono seduti e gli altri rimarranno non utilizzati gli altri elementi del vettore. Però questo lo posso fare se il numero facciamo un'altra cosa. Se il numero è maggiore di MAX ha finito, eh? zero esci. Cioè se il numero è troppo c'è qualcuno che sta non c'entra dentro il vettore cosa succederebbe se non mettessi questo controllo? Lo vedremo nei prossimi giorni. E state anche per vedere in questo momento appunto uno dei più grossi problemi del C. Legato al fatto che i vettori non esistono, che in realtà è tutto un mascheramento dei puntatori quello che può succedere è che se non mettessi un controllo come quello che sto mettendo adesso io potrei andare a sovrascrivere un vettore anche oltre quello che ho allocato per lui andando a fare danni. Il tipo di danno dipende da cosa c'è dopo. Io adesso metto questo e mi è tale che se si è seduto un numero di ragazzi troppo grosso esco dal programma e non fa niente. Il FOR lo faccio finire fino al numero e non fino a 6 e quando vado a calcolare la media non la divido per 6 ma la divido per numero. Così facendo mi sono totalmente reso indipendente dal numero degli studenti. A questo punto credo di aver finito se non ho commesso errori salvo è un po' più forte scusa? cosa manca? Non ho capito allora mi dà un po' di warning ok adesso è andata dimmi quanti sono gli studenti quanti sono? 7 adesso si aspetta che do i voti 30 30 30 30 30 30 30 la media è 30 bene ragazzi avete visto cosa sono i vettori cioè cosa non sono perché non esistono ma avete capito il secondo e ultimo utilizzo dei puntatori quello per implementare i vettori a cosa servirebbero i vettori se esistessero a non utilizzare nomi per le variabili dello stesso tipo e a poter allocare un numero indefinito di valori tutti dello stesso tipo in una medesima struttura dati bene ci vediamo alle due e mezza per l'esercitazione